Buongiorno cari amico da Pablo Il giorno di oggi che cosa faccio? Sono qua nel parco, stava correndo Guarda però non sudo niente Solamente sudo quando faccio esercizi di donne Mira comando, che cosa faccio oggi? Faccio un piccolo circuito per rasolare, per tonificare Siamo diventare la gamba forte, anche il pezzo, il braccio Anche un po' l'addome, mira comando Questo è un workout che dura poco tempo, poco tempo Io voglio che tu arrivi sempre al trasguardo, sempre forte e firme Tu non mi piace mai, tu sei una persona vincente Mira comando Se ancora non sei iscritto, iscrivete a mio canale Che si fai subito lì Ok, vamos a iniziare con un pochino di mobilità del corpo Un po' così, inizio la actività, vengo indietro Ta, 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 ta Sempre sorridente e positivo guarda E portati questa bata elastica, sembro un prete Noi, sembro un po' la bufanda Questo è la situazione qui è un pochino Oh, me relazo qua nel parco Passo il treno, potete guardare colpi in peone la movina milanese ok 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 ora inizio, faccio a fondo faccio 24 a fondo 1 2 3 faccio questo esercizio dopo cosa faccio? dopo faccio squat con salto squat jump e dopo continuo con un po' di esercizio di braccia pusi a diamon e dopo faccio un pochino di esercizio per la spalla e finisco con addome mi raccomando si inizia, si inizia, si inizia si inizia, guardalo qua inizio, va 1 2 sempre con lo stesso 4 5 6 7 8 10 9 10 11 e 12 ok Ok, adesso, adesso, e squash jane, squash jane, va, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, e dieci, uno in più, ok. Ok, 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 perfetto, perfetto, adesso, lo repito nuevamente, nuevamente, dos esquerdas, dos esquerdas, hai iniziato con il destro, adesso, con il sinistro, va, uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, dieci, dodici, cambio, uno, guarda con la mano anche avanti, come vuoi, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, due in più, perfetto, gamba, addomini, e brazza, vai continuo, jumping jane, squash jane, squash jane, va, uno, due, tre, ultimo, 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 ah, uh, 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 60, 60 la borra, digamos, no? Uh, uh, sei un minchen, sei un minchen, no se mola male, no se mola, nessuno, sei regala male, la bellezza costa, la salute costa, tutto costa, se vuoi andare avanti, devi forzarti, spingere un pochino, ok, adesso, andiamo con il lavoro del pectorale, pettorale, tricipiti, vamos a fare, puccia, andiamo, postura, guardala qua, postura, lentamente, chiudo, braccio dal pezzo, vai, uno, due, tre, quattro, cinque, sette, nove, cinque in più, uno, uno, due, tre, quattro, cinque, oh, perfetto, penso abur oiga vino il sole vino il sole ai 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 come si muero, muero la salsa col continuo nuovamente nuovamente, vamos a fare un nuovo game il palo possibile delato possibile, guarda ok, va si va ojeto alemane, guarda uno come me piace la 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 ok, perfecto perfecto, he portato mi elastico ogni elastico ha una resistenza guardate questo asurino che ha sua resistenza prendete arancione ah ah più duro più difficile però se tu sei allenato non c'è un problema adesso guarda che va a fare il palestro spara spara diritto pressione il ginocchio petto avanti guarda guardalo qua uno è facile è facile puoi scrivere che io te rispondo subito ok ok stiamo ripetendo nuovamente nuovamente se lo prendo più aperto meno resistenza più stretto più resistenza ok va pressione ok va pass due tre la borra espada e se senti ok ok adesso passo a fare un po' di attone un workout e facile da fare un estrada in strada lo puoi di attencare quando sei eineri a casa todo Ok, ora facciamo un po' di esercizio per la pancia. Acuesto e camminiamo un po' di esercizio aerobico. Una sana e corretta alimentazione. Ora facciamo i laterali. Oblico, oblico. Così guarda, oblico. Così, 5 minuti. Dai, escherzo, 30, 30, 30, 40 secondi. Questo lo faccio fermo, senza niente, senza fare niente. E così, penso positivo, mi carico con il sole. E già lo sai, no? Mi fa venire un corpo bello, hermoso, elaborato. Che stai facendo? No, stai facendo Fisi Mass. Fisi Mass in Youtube che serve. Serve la costanza. 1, 2, 3. Perfecto. Perfecto. Cambio. Cambialo, cambialo, cambialo. Cambialo. Si va, si va. Ahora, ti entraspe, legislative. 5, 0, 7, 3, äricека. Nesuno te regalan dientes. Mira comandolo fáciles... No te portan el trascuardo. Ai, ai, ai. 1, 2, e 3, perfetto, perfetto, lo repito nuovamente, lo repito, lo repito, lo acaso lo fai, 2, 3, anche 4 volti, lo repito tanto, diventa forte, diventa, tu no, tu no mola mal a la prima dificultad, ok, vamos a fare un pochino de plan, 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 o no he portato a mi tappetino, pero he portato a la chica, va, lo guarda, lo guarda, ok, retroversión del club, cambio, cambio, vamos a fare una bolita, cerro, cambio, ta, 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 ta ai 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 mira comando repito nuovamente era dove stiamo quasi finalizzando mi mamma la competenza è corta però efficace grazie, grazie per la seguida a Pablo grazie, sono molto contento con tutta la gente che suscribe la prossima meuscritti scritto del principio io lo voglio bene guarda, lo voglio bene non te congo che i correnti per il grazie ahah io due correnti guarda uno due per quello che mi mamma tanto io due correnti ok si va, si va ultimo, ultimo ottimo 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 ok, ora fare una modifica andiamo a fare questo volimento tre quattro cin tre sette otto nove dieci in più uno due due tre quattro sei tre otto nove e dieci uff che fai? cambio cambio, 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 cambio bene postura postura dritto va prima uno due due cinque sei sette otto nove dieci uno due tre quattro cinque sette otto nove e dieci uff sette due salto alpidua continuiamo con plan plan vamos a fare a che una modifica cueste che abbiamo fatto per ugual una modifica questa versione utile entonces salgo salgo toco mano tocan y novi contrario uno haciendo un encarmento salgo salgo ultimo ultimo uno due tre uff per il giorno di oggi abbiamo finalizzato grazie per questo allenamento fisima furcato mi raccomando tutto lo che fai oggi domani se vedrà del cuore pablo e ancora lo che sei iscritto iscribete a me vai aah